Inizieranno entro fine mese i lavori di rigenerazione a Londa Palace, l'edificio al grezzo che si trova in via Panama e si affaccia sulla tangenziale est. Il consiglio comunale ha approvato la convenzione che allarga l'uso degli spazi all'interno della torre a uffici privati a servizio anche della zona industriale e dell'interporto. L'intervento di rigenerazione edilizia sarà a carico del proprietario, l'imprenditore padovano Agostino Candeo. La torre è alta oltre 67 metri e composta da 17 piani fuori terra più uno interrato. L'onda Palace ospiterà anche un ristorante in terrazza. Avrà una delle parete laterali interamente ricoperta di pannelli fotovoltaici. I lavori dureranno circa un anno. Il comune incasserà 419 mila euro in oneri. Spostiamoci in centro storico. L'istituto del Sacro Cuore di via Belzoni diventerà entro la fine del 2023 uno studentato da 401 posti letto. Già da alcuni anni lo stabile ospitava studentesse universitarie. Abbandonate da tempo le finalità religiose, il grande palazzo è stato acquistato da un fondo immobiliare israeliano. Con una modifica al piano degli interventi il comune lo ha reso struttura con finalità sociali. In cambio Palazzo Moroni riceverà la proprietà del parco La Città dei Bambini, 9.000 metri quadri in via Sant'Eufemia.